Presidente, si è chiusa questa sessione di mercato, intanto una sua prima valutazione prima di scendere un po' più nei dettagli. La valutazione, abbiamo fatto quello che si poteva fare, abbiamo preso dei giocatori che sono funzionali per quello che stavamo facendo, mi riferisco al secondo portiere perché serviva quando era andato via Castrati, Pucciarelli che può giocare a trequartista, può giocare a Lamacin e Clemenza che all'occorrenza può fare la stessa cosa, è un mancino e consideriamo che abbiamo Galano là davanti e può essere anche l'alternativa di Galano. Per il resto è rientrato in Risalde, adesso noto con piacere stamattina aver cominciato a rivedere in campo anche Balsano, piano piano rientrano anche gli altri, quindi siamo soddisfatti. Ecco, però sul fronte ai centravanti era l'obiettivo, insomma anche dichiarato, cosa non è andato affinché arrivasse il nuovo centravanti? L'obiettivo dichiarato era di prendere un centravanti che avesse delle caratteristiche come volevamo noi e soprattutto che ci potesse far fare un salto di qualità. Il salto di qualità sul mercato te lo potevano far fare eventualmente in due, non si sono mossi, quindi è inutile che prendiamo un centravanti per prendere un centravanti, per aggiungerli agli altri due, perché gli altri due che abbiamo li consideriamo forti, quindi se prendevamo uno che sulla carta poteva essere più forte è un conto, ma prendere per prendere non serve a nulla. Per Melchiori e Iemello cosa non è andato per il verso giusto? Ma noi credo che abbiamo fatto un'offerta importante, forse al di là delle possibilità del Pescara, però è evidente che i giocatori hanno una proprietà e la proprietà decide, ci mancherebbe, non hanno a un certo punto deciso di farli uscire, quindi non si è potuto fare, ma ognuno decide in casa sua. Poteva uscire anche Palmieri in questa trattativa? Nel modo più assoluto perché ho sempre detto di no dall'inizio. Anche noi abbiamo ricevuto in questi giorni, io non ho detto niente a nessuno perché ho dato subito il mio no immediato, abbiamo ricevuto delle offerte per Galano, ma Galano è evidente, è di mia proprietà, decido io che farci. Macin, è un po' l'addio shock, lei insomma l'abbiamo già ascoltata, ha parlato tra virgolette di scelta di cuore, ma facendo intendere che in realtà c'è un qualcosa di, diciamolo pure, economico sotto. Ma ci mancherebbe, scelta di cuore era una battuta, è evidente, si può pensare di tenere bloccato, io ancora non partivo nelle trattative, il ragazzo non c'era più a Pescara, quindi evidentemente è una scelta sicuramente non di cuore, però io lo capisco anche il ragazzo, se tu oggi guadagni 100 e te ne offrono 5 volte tanto e ti cambia la vita, probabilmente te ne freghi di Pescara, del Pescara, di Sebastiani e di tutto quanto il resto. Non c'era modo di opporsi facendo valere l'accordo di prestito stipulato a inizio stagione? Ma non c'era modo di opporsi perché la volontà del giocatore non era quella di tornare a Pescara, che è diversa da avere o non avere la possibilità di opporsi. Il giocatore addirittura mi ha detto personalmente che avrebbe fatto un biglietto per andarsene a Madrid, quindi è evidente che a quel punto c'è poco da ragionare. Ecco Presidente, sugli altri fronti, in questo momento in attesa di Balzano c'è un solo terzino destro, o quinto di destra a seconda di come giocherà, che è Zappa, e poi a livello di centrali forse manca una pedina, ecco anche sotto questo profilo si poteva fare qualcosa in più? No, non l'abbiamo fatto proprio perché crediamo che non c'era bisogno di farlo, perché a destra oggi c'è Zappa, Balzano come ho detto sta già riprendendo insieme ai compagni, e Masciangelo all'occorrenza può giocare anche a destra. Per quanto riguarda i difensori centrali è tornato a Risalde, che credo che faccia quel mestiere lì, e Campagnaro fra una settimana rientra in gruppo, quindi non so quando ce ne dobbiamo avere i difensori centrali per fare ancora 15-16 partite. Presidente, altre due domande prima di congedarla, intanto i tifosi hanno mormorato, è stato esposto questo striscione sotto la curva nord, che proprio questa mattina è stato fatto rimuovere, insomma che messaggio vuole lanciare alla tifoseria che invece esprime questa preoccupazione? Preoccupazione di cosa? Fatemi capire che preoccupazioni c'è. Non sono contenti del mercato che è stato fatto. Il prossimo anno ci andranno loro a fare il mercato, facciamo prima così si renderanno conto innanzitutto di quelli che sono i vincoli per iscrivere una società a un campionato, e poi magari saranno più bravi di me a fare il mercato. Io purtroppo non posso controbattere a chi non conosce, se faccio il tifoso faccio il tifoso, se non conosco le regole del gioco faccio fatica a parlare. L'ultima, il Pescara che esce fuori da questo mercato, punterà a play-off? Punterà a fare quello che sta facendo, c'è un campionato buono, dignitoso, e cercare di rimanere più in alto possibile quanto più possibile. Poi si vedrà, credo che lo scorso anno c'era lo stesso ragionamento qui, e poi siamo arrivati dove siamo arrivati. Ma io non credo che debba parlare io, perché poi alla fine ci sono i fatti che parlano, ma io vorrei capire da dove veniamo noi e chi siamo, perché faccio fatica a comprendere alcuni atteggiamenti che veramente non hanno una giustificazione. Questa è una società che in dieci anni ha fatto quello che forse nella storia del Pescara non ha fatto mai nessuno, ha di tutto e di più, l'altro anno veniamo da una finale play-off, due campionati vinti, tre campionati vinti comprese quelle della C, una finale play-off, due campionati serie A, una semifinale play-off, stiamo ancora giocandoci qualcosa in questo campionato e qui la gente si lamenta, ma forse sarebbe il caso di fargli vedere altre cose.